E' nel tempio del basket, spazio alla scherma per la Coppa del Mediterraneo Under 23 e naturalmente c'è Paolo Pizzo, un'esperienza importante per questi ragazzi. Sì, è uno dei primi confronti internazionali per molti e molte di loro, è bello che sia qui a Brindisi in un palazzetto così importante per lo sport italiano, dove è di casa la squadra di basket, oggi entriamo noi della scherma, i ragazzi sono molto emozionati, ci sarà da divertirsi. Ieri abbiamo lanciato messaggi importanti perché lo sport è veicolo di pace. Non è retorica più, è difficilissimo oggi far incontrare i popoli su un terreno dove c'è uno scontro sano come lo sport, va difeso, oggi è una giornata importante. Sei stato protagonista assoluto della serata di presentazione e non solo perché sei un campione. Sono stato protagonista perché cerco sempre di far bene dove vengo chiamato in causa, è una città che amo questa, ho passato tante tante stati della mia vita, Brindisi ed intorni, quindi mi è naturale, sono felice qua. Il libro, autobiografico, l'esperienza televisiva con il grande successo del film mandato in onda da Rai 1. Sì, stanno capitando tante cose belle nella mia vita, sicuramente la cosa che voglio raccontare più di tutto è quella che se ti impegni tante volte accadono cose meravigliose nella tua vita, quindi l'ho sempre fatto, lo consiglio ai ragazzi, date tutto e poi succedono cose meravigliose. Il tuo palmarestro lo conosciamo bene, ma adesso? Adesso voglio essere un ottimo padre, un buon marito e probabilmente un buon dirigente sportivo, ci sto provando. E anche un buon maestro? Quello sì, avrò gli esami, non voglio parlare prima, non voglio fare spoiler, gli esami da maestro di scherma in primavera, ci tengo tanto. Paolo, per concludere, un messaggio alla grande famiglia della scherma e soprattutto ai giovani? Sicuramente ragazzi di intendere questo, la lealtà che c'è nella scherma nel combattimento, quindi lo spirito del misurarsi senza avere paura della sconfitta, è un confronto sano, nel fair play, dove dare tutto. Questo è bellissimo, consiglio a tutti i ragazzi, anche a quelli che non fanno scherma, di provarla, è stupendo. Grazie a tutti.